i ragazzi ben trovati a questo nuovo video sono ixd suデ部 rrrrrr vabbè la smette dai io sono ixd de su barbaracca e oggi siamo su a veritail che sarebbe il gioco di una marionetta e quindi possiamo anche andare e allora che cosa perfetto la tua ragazza si dovrebbe mettere non si dovrebbe portare così sulla moto e innanzitutto ci vuole il casco ma ragazzi ma allora perchè cazzo siamo partiti con uno che a caso che è andata con la moto che si portava la sua principessa allora cosa dovremmo fare qua di preciso non lo so ah si può pure parlare, aspetta si può guardare e poi si può parlare se vabbè sta pegare non mi dice un cazzo ciao hai visto la mia spada? sai dove la mia spada? guarda secondo me la sei infilata per sbaglio nel culo vedi un po' o forse ce l'ha lei boh non lo so che cazzo devo fare qua non lo so che cazzo devo allora ragazzi è passato una una volta a caso ma forse quella è la principessa che devo salvare ah quella è la principessa no 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 vieni ah no cazzo già è passato troppo tardi vabbè ragazzi allora qua non so cosa devo fare però allora ci sta una pecora che si sta sminchiando la lingua forse vorrebbe mettersela nel culo ma non importa noi possiamo benissimo prendere una paletta e ce la possiamo infilare nel culo come ha fatto come il merlo si è infilata la spada nel culo allora eh va quella cazzo di paletta muoviti andiamo eh va quella paletta iiiiia allora allora ragazzi dovrei dovrei andiamo oh finalmente vai ma che cazzo oh scusa merlo non l'ho fatta apposta eh allora eh ho preso una allora ragazzi che se eh allora ragazzi io non so perché che cazzo ci sta un peperone d'oro però io lo prendo e ce lo do al merlo che forse mi vado a fa non lo devi lanciare porca puttana non lo devi lanciare allora ti ma che cazzo ci fatta sta lattuga qua che allora ehm dove cazzo è finita ah eccolo qua ok allora prendiamo il prendi il non devi prendere la lattuga ma non devi giocare a calcio con la lattuga porca troia allora devi prendere non devi prendere la lattuga non devi prendere lo scabello devi prendere quel peperone d'oro prendilo prendilo è come il tuo testicolo dorato andiamo eh vabbè sì certo allora non devi prendere la lattuga ok perfetto vai allora devi prendere quella quel peperone e dai muoviti allora perfetto no 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 non hai capito proprio un cazzo allora tu allora devi prendere sto cazzo di peperone allora va bene prendi la lattuga e lanciala lanciala di là ok adesso prendi per favore la quel cazzo di testicolo più lungo del tuo ok ragazzi abbiamo il testicolo adesso in quale cazzo devo infilarlo sto testicolo allora forse devo ma perché sto infilando tutta la tutta sta lattuga nel culo di questa capra vabbè allora cosa devo fare per di preciso ah aspetta forse gliela devo dare alla capra o al mello allora forse devo darglielo al mello tieni senti qua pecorina io tengo una lattuga non so se la vuoi quindi allora John vabbè prenditela vedi se vedi se la vuoi aspetta ma forse gliela devo mettere allora forse gliela devo mettere vicino alla bocca c'è sta cazzo di lattuga mo tra poco lo sai dove te la metto allora prendi allora prendi la lattuga prendi la lattuga prendi la lattuga la puoi prendere la lattuga prendi la lattuga mo non la prende più vabbè allora prendi il peperone per favore ah no mo la prendi la lattuga allora prendi la lattuga che lancia la lattuga eeeh eeeh vaffanculo allora ragazzi scusate un attimo ragazzi però qua è una faccenda un poco eeeh allora che cazzo si deve fare qua porca di quella puntana allora la paletta aspetta la paletta la posso lanciare adossalmerlo niente da fare oh scusa mamma mia ma si pesa una botta proprio allora ragazzi qua la faccenda è un poco complicata allora devo prendere questo peperone devo prendere questa questa paletta ok allora lanciala di là adesso devo prendere il devo prendere quel cosa dorato allora prendi la manina prendi la manina e prendi quella prendi questa cosa qua perfetto adesso lanciala di là lanciala di là di là di là ho detto di là merda allora lanciala di là ok perfetto allora adesso riusciamo a prendere per favore sta cazzo di sto cazzo di peperone muoviti, muoviti no niente muoviti ti scorgiulo ti prego allora prendila, devi prendere allora donna mia allora prendi la pecora, prendi per il culo la pecora ok allora prendi per il culo sta cazzo di pecora ok l'hai presa adesso prendi non devi portartela a pressa ok perfetto ragazzi finalmente dopo anni siamo riusciti a prendere sto peperone te lo puoi mangiare questo qua contiene tante vitamine e ti fa fare tanta ok sera è mangiata il prossimo obiettivo quale sarebbe perché ha fatto un uovo la pecora non si sa ok bene allora con cosa devo fare questo uovo di preciso non lo so che devo fare con questo uovo? non lo so e allora ma che cazzo devo fare? aspetta posso provare a parlare con la pecora se mi dà un aiuto no niente ah questo qua cerca sempre sta cazzo di spada allora e allora adesso prendiamo allora adesso prendiamo allora cosa sta cazzo di lattuga allora adesso prendiamo la la paletta prendila prendila stai tranquillo non devi inzappare prendila voglio fare solo una cosa prendila 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 quella cazzo di cosa prendila e guarda se la mia mannaccia miseria ah finalmente adesso ragazzi voglio provare a lanciarla su questo mello vediamo se oddio cosa cazzo? che cazzo ho fatto? cosa ho fatto ragazzi? cosa ho fatto? cosa? ma oddio come cazzo se le smicchia ste braccia vabbè lascio a vedere allora devo non devi prendere la pecora devi prendere l'uovo perché voglio vedere allora secondo me in quest'uovo ci sta la spada ecco ecco allora non c'ho la spada però c'ho l'uovo spero che cos'è? altapas world segreta e uno due tre e quattro altapas world segreta vabbè e e sarebbe questa qua aspetta forse allora prendo la paletta aspetta allora devo prendere la paletta forse e devo no niente non c'è la paletta allora innanzitutto qual è la password per accedere a facebook? qual è? uno due tre e quattro qual è sta password? oh scusami allora che cazzo devo fa' qua madonna mia certo che sei proprio d'aiuto merlo del cazzo dammi un'aiuto eh vabbè la tua password eh e aspetta la pecora mi può dare un aiuto cioè così forse capisce che cazzo dice sto merlo allora no niente proprio la bella pecora impegnata a mangiarsi la lattuga noi lasciamo perdere la lattuga e andiamo di qua allora ci sta un secchio allora anzi no ci sta uno sgabello allora prendi lo sgabello e così ci sediamo e riflettiamo allora ragazzi no veramente ragazzi cos'è sta cos'è? un passaggio segreto un ah un quadro segreto cioè una c'è una cosa segreta nascosta eh allora forse qua la trovo la spada raga allora io devo trovare sta cazzo di spada perché sto merlo mi sta rompendo i coglioni allora ehm allora dai aprila 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 brutto pezzo di snodabilimento brutto pezzo di snodabilimento del cazzo andiamo apri quel cazzo la vedi? allora lo vedi lo vedi questa cosa la devi aprire la devi aprire guardala parlaci pure parlaci cioè ci ha parlato e vabbè ci ha parlato e ok adesso ho la chiave e allora questa chiave me la devo infilare nel cu no aspetta allora devo infilarla nel no aspetta allora questa chiave ah con questa chiave devo aprire una porta ma quale porta? allora aspetta vediamo se cos'è? ah eccola la spada ah eccola qua la spada ecco vediamo un po' adesso prendi la spada così questo qua non rompe più i coglioni eccola la spada eccola qui stacqua la spada eh stacqua la spada stacqua la spada oh ehi stacqua la spada ho detto adesso prendi te la te la infilo nel culo vabbè lasciamo perdere oh mamma che acrobazione che fa però vabbè andiamo avanti ehm allora vabbè ehm cosa devo stai calmo però eh non è che ehm vabbè ragà allora in pratica dovevo rompere il vetro vabbè e allora entriamo qua eh adesso è una parola e vai 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 ok perfetto allora non portarti pure il sasso ok perfetto ah questo qua ah dobbiamo sconfiggere il rio vieni qua brutto stronzo adesso allora prendi la spada adesso prendi la spada prendi la spada ok prendi la spada e adesso ammazzalo come cazzo ce l'ha ammazzato vabbè perfetto abbiamo sconfitto il cattivo e adesso la principessa vieni qua principessa vieni qua vieni qua guarda ho anche una moto tu ti senti davanti e io dietro sei tranquillo ronti in culo ehm allora adesso prendiamo la moto e ehm vabbè prendi no allora no senti tesoro lo so che sei eccitata per cosa stiamo per fare però dai allora prendiamo prima la moto dai allora no 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 ma che cazzo ma che cazzo no raga che cazzo è successo non lo so e non lo voglio sapere ho finito ho finito a very tail a very fuck proprio cioè a very fuck cioè proprio la moto se ne è andata a fare in culo vabbè bene ragazzi e è stato bellissimo giocare a questo gioco vaffanculo a chi cazzo l'ha creato bene noi ci vediamo alla prossima qui da xd uuuu baracca cacca noi ci vediamo alla prossima qui da xd ma ce l'ho detto vabbè lasciamo perdere che meglio io non so più parlare in italiano vabbè tanti likes e iscrivetevi ciao